Amici dei Senza Giacca, ben trovati nel nuovo commento. Roma e Las Verona, terminata 2-1 qui all'Olimpico. Che dire, intanto bisogna fare i complimenti a tutti i buttei presenti, 427 che oggi hanno deciso di seguire la squadra qui, gli unici a continuare a crederci e un'ora loro per il chilometro che hanno fatto e per continuare a sostenere i colori nonostante il momento negativo. Poi che dire della partita, una partita che nel secondo tempo soprattutto si era messa sui binari giusti e che ci aveva dato speranze, soprattutto dopo il rigor assegnato che poi Diuric ha sbagliato, ma non ci siamo rassegnati, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo fatto gol, abbiamo riaperto la partita e per come si era messa meritavamo sicuramente un punto per come la squadra ha giocato, per come ha reagito, buoni anche i cambi da Cruz a Henry, abbiamo ancora una possibilità, la squadra c'è, nonostante le assenze arriveranno nuovi acquisti, arriveranno giocatori che si spera che hanno un apporto magari positivo alla squadra e che dire, il punto oggi si poteva tranquillamente portare a casa come a Torino con la Juventus e come a Milano contro l'Inter. Questo è incredibilmente vero, non è assolutamente commentabile e dobbiamo continuare a guardare avanti, continuare a sperare, il nostro Hellas continua a farci penare ma noi ci saremo sempre e che dire, oggi è andata così, la prossima col Frosinone diventerà una partita da significato importante come l'è stata sabato scorso con l'Empoli e come saranno tutte le altre, non dobbiamo guardare all'avversario ma dobbiamo guardare solo ed esclusivamente al fare punti. Noi come tifoseria ci saremo sempre e continueremo a sostenere i nostri colori. Sempre forza Hellas e buona serata di sentirci alla prossima.